Caro pubblico italiano, carissimi amici dell'Accademia di Romania in Roma, in questo periodo difficile per tutti. Noi siamo contenti di poter essere vicino a voi attraverso il progetto Musicisti Romeni a Roma, un progetto ideato dall'Accademia di Romania in Roma che presenta una serie di musicisti riuniti in una mini stagione musicale virtuale. In questo contesto desideriamo presentarvi suonata a due, per due violoncelli, di Jean-Baptiste Barriere in tre movimenti, andante, adagio e prestissimo. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.